Buonasera, buonasera, buonasera Stefania, buonasera Ciro. Allora, sappiamo intanto che il ministro non è ripresente perché comunque come tutte le donne a volte, può accadere anche di distrarsi, di perdere la via. Certo. E così è successo. Se di l'altro mi fai molto santo. Ho perso tutti i gattini. Bene, allora vuoi dirci due parole riguardo anche perché tu...